Oggi abbiamo segnato un accordo di collaborazione tra Rimini e Vicenza, due città che già hanno imparato a conoscersi e ad allearsi in campo economico-industriale con la fiera, devo dire con risultati molto molto importanti e soddisfacenti. Oggi abbiamo segnato un altro accordo, quello in campo anche artistico e culturale, due realtà sicuramente diverse come Rimini e Vicenza ma che possono integrarsi attorno a obiettivi comuni di valorizzazione reciproca in campo artistico. Abbiamo l'obiettivo sicuramente già di mettere a terra una serie di collaborazioni che possono dare opportunità sia ai vicentini ma quanto ai riminesi anche di visitare le reciproche città e gli ospettivi territori, ma anche l'obiettivo di creare delle grandi mostre internazionali che sono frutto di collaborazioni tra queste due città che hanno già dimostrato di sapere fare grandi cose assieme. È un accordo importante quello che abbiamo siglato oggi perché Vicenza e Rimini hanno dimostrato di sapere fare grandi cose insieme, penso naturalmente a IEG e alla fiera, ma hanno tantissimo da dare anche sul fronte culturale e turistico. In primis perché sono due città che hanno una distanza tale per cui possono anche proporre insieme prodotti culturali, iniziative a pubblici diversi e questa idea delle città che dialogano e costruircono insieme siamo convinti che possa fare la differenza.